A parte ogni considerazione sull'efficacia della circolare in relazione alle pubbliche amministrazioni territoriali, quindi mi riferisco alle regioni che hanno una loro autonomia costituzionalmente garantita, diciamo che questa circolare comunque pone un grosso interrogativo, cioè la necessità di atti di auto-organizzazione delle singole amministrazioni per affrontare il problema della mediazione, sia il TUEL e la Costituzione prevedono che gli enti locali adottino proprio atti di auto-regolamentazione, è lo stesso articolo 89 del TUEL che lo prevede nei limiti previsti dagli statuti, per cui già prima della circolare della funzione pubblica sarebbe stato opportuno, ma è opportuno ancora ad oggi a maggior ragione, una organizzazione dei singoli uffici, soprattutto per gli enti locali di ridotte dimensioni, al fine di poter affrontare il contenzioso derivante dalla mediazione senza essere impreparati. Il legislatore detta poche norme per quanto riguarda gli enti locali, mi riferisco particolarmente all'articolo 417 bis del codice di procedura civile che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di difendersi con propri funzionari nelle cause di lavoro di primo grado. Se così stanno le cose, e poi c'è il procedimento tributario che fino a 2582 euro prevede la rappresentanza personale, e se così stanno le cose sarebbe necessario per gli enti locali modificare i regolamenti e creare un ufficio del mediatore, cioè di un soggetto deputato a rappresentare la volontà dell'ente all'interno dell'organismo di mediazione. Perché se così non fosse, se per le lungaggini amministrative così non fosse possibile, vi sarebbe poi la conseguenza della relazione alle spese legali e anche di un'eventuale responsabilità erariale. E quindi ritengo che siano opportune modifiche regolamentari per prevedere la possibilità senza dilazione che un soggetto rappresenti quanto prima la pubblica amministrazione. Teniamo presente che normalmente il procedimento amministrativo è abbastanza lungo e complesso ed è tanto lungo e complesso che l'articolo 14 ha previsto il termine di 120 giorni prima di procedere alle esecuzioni nei confronti di pubbliche amministrazioni, proprio per il fatto che la pubblica amministrazione non riusciva a rispettare il termine di 15 giorni della notifica del precetto. A questo punto per evitare che l'udienza di mediazione si svolga senza una parte che deve rappresentare la volontà non soltanto si dovrebbe costituire un ufficio del mediatore di mediazione con un soggetto deputato a esternare la volontà ma anche a conferirgli idonei poteri rappresentativi. Non dimentichiamoci che il 193 del Tuel prevede che quando la volontà dell'ente non si realizza secondo le forme previste dalla legge il rapporto obbligatorio sorge tra colui che ha esternato la volontà mi riferisco alle prestazioni di servizi ma la stessa cosa è una mediazione e quindi voglio dire lodevole l'iniziativa della regione Piemonte per quello che riguarda la creazione di un organismo di mediazione ma come regione che ha la finalità di coordinamento degli enti territoriali, degli enti locali quindi province, comuni e comunità montane sarebbe opportuno che sia la regione Piemonte ma tutte le regioni indettassero indipendentemente della circolare del ministro che può dettare ordine gerarchico tra virgolette soltanto nei confronti degli organismi statali o degli organismi periferici quindi l'avvocatura dello Stato un coordinamento al fine di consentire all'ente locale di rappresentare quanto prima appunto la sua volontà all'interno dell'organismo di mediazione. Non dimentichiamoci inoltre che a seguito delle ulteriori manovre, quelle di spending review, è previsto l'esercizio associato di funzioni fondamentali e la mediazione fa parte dell'articolo 24 della Costituzione perché comunque è esercizio del diritto di difesa in giudizio o di agire in giudizio e allora se vi deve essere esercizio associato di funzioni fondamentali prevista, adesso non ricordo il numero delle varie spending review, esercizio fondamentale deve avvenire anche per quello che riguarda la mediazione di enti locali, enti con 500, 700, 1000 abitanti e che sicuramente non hanno un ufficio legale ma non so se possono anche avere un soggetto al di fuori del segretario generale che però probabilmente per effettuare un'attività del genere avrebbe bisogno di una modifica dello statuto senza l'articolo 97,4 del Tuel di modo da non far trovare impreparate le amministrazioni, soprattutto quelle di piccole dimensioni, certamente non la regione che comunque avrà un ufficio legale sufficientemente ampio e anche appunto dirigenti, esatto, mi riferisco ai comuni di 3, 4, 500 abitanti che esistono nelle zone montuose dell'Italia in modo da non consentire un aggravio poi di spese processuali che appesantirà i già magri bilanci degli enti locali soprattutto a seguito del patto di stabilità che tutti ben conosciamo. Quindi era soltanto una sintesi. Grazie del suo prezioso intervento. Prego. In realtà questo, che noi prenderemo spunto sicuramente dalla sua proposta e sarà compito il mio estenderlo ai miei superiori. Noi all'interno, come aveva già precisato poco fa l'avvocato Cerchia, abbiamo formato dieci mediatori, ognuno che è situato nelle varie direzioni. Questa formazione ha una finalità ed è quella di prevenire il contenzioso, proprio in fase di spending review perché tutti gli enti pubblici stanno soffrendo le pene d'inferno allo stato attuale. E quindi, proprio per forse essere stati un pochino anticipatori di quello che ha indicato la normativa che poco fa lei ha menzionato, abbiamo cercato di fare questo. Ovviamente con le altre istituzioni che sono i comuni e le province per quelle che rimarranno poi alla fine, perché quello che accadrà, accadrà. E in realtà abbiamo intenzione proprio di coinvolgerli, coinvolgere tutti i comuni su questa nostra iniziativa per applicare questa cosa. Oltre a questo abbiamo intenzione di far entrare la clausola nei nostri contratti, la clausola sulla mediazione, che è già un aspetto estremamente positivo per l'ente, per tutto insomma, per la mediazione in generale. Grazie, grazie dottoressa Merlin. Grazie. Grazie. Grazie.